Ciao a tutti, sono da San Francisco de Cordoba in Argentina, tra qualche giorno ripartirò e andrò verso Ushuaia al sud per poi risalire tutta la cordigliera fino all'Alaska, prima mi fermerò a Rapaian in Perù nella cordigliera negra dove aiuterò i ragazzi dell'Amato Grosso per alcuni progetti in un villaggio e quindi ci sarà tempo, arriverò lì verso giugno del prossimo anno, ci sarà tempo per raccogliere dei fondi per il loro progetto, quindi conto su di voi, sulla vostra generosità e bene, grazie, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!